I soldi li prendevamo. Per la politica. Sì, ma qualcosa ci restava attaccato alle dita. Se non c'è coesione, non c'è squadra. Di che rispetto parli? La gente ha paura di voi. T'hanno rubato un leone? Sì. E dopo tanto tempo passato nei canzieri a gelarti il culo... Non ne puoi più. Io sono uno che lavora sodo, ma non lo erano quelli che lavoravano con me. Un branco di sfaticati. Ma noi siamo nello stesso posto. Esattamente nel medesimo. Se voi mi guardate, chi sto guardando io? No, regà, così non fa, eh. Non puoi andare avanti così. Allora, ma noi c'è un po' di liquido, no? Xenofobia, perché attenzione, quando sarete là a polvere, sarete strani. Da quando ho 18 anni l'esercito è la mia vita. Vorrei evitare uno scandalo. Ah, è già uno scandalo. Siete un giornalista? Sono uno scrittore. E quando si guaraggia fuori scrittore? E quando va buono si guaraggia. Proprio molto.